Il collegio di revisione dei conti ha confermato un atteggiamento valutativo che aveva avuto già lo scorso anno quindi non ci meraviglia la presa di posizione ma a differenza dello scorso anno invece dobbiamo annotare alcune questioni rilevanti che ci fanno dire che questo parire non è assolutamente condivisibile. Il bilancio, l'assestamento di bilancio quadra non soltanto contabilmente ma quadra anche con le azioni posti in essere da parte dell'amministrazione, allo stesso tempo tutto quanto viene posto a motivo del parere non favorevole del collegio invece non ha alcun fondamento. Mi riferisco al richiamo fatto al parere del nostro responsabile finanziario il quale dice tutt'altro rispetto a quello che sostiene il collegio di revisione dei conti. Mi riferisco al fatto che il collegio non pone attenzione su un numero ma fa ipotesi negative e pessimistiche su quello che potrà essere il livello di capacità di rispetto degli impegni presi dall'amministrazione e quindi non c'è un dato che possa far credere che sia valida la loro teoria rispetto e a dispetto della nostra e soprattutto vi è una serie di eccezioni che sono assolutamente false. La prima e la più importante è quella relativa alla non trasmissione del piano di rientro dell'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di tesoreria o meglio il piano di rientro dei flussi di Cassera è già stato previsto e già scritto nella delibera relativa al DUP, è stato poi anche scritto nella delibera che è stata posta all'attenzione del collegio di revisione per l'assestamento della salvaguardia e quindi mi sembra che anche questo richiamo sia il frutto di una disattenzione da parte del collegio che mi piacerebbe fosse in consiglio, chiediamo ufficialmente, chiederemo ufficialmente al collegio di venire in consiglio perché motivi le ragioni di queste sviste, di questi svarioni, di queste omissioni di queste letture non corrette degli atti che sono stati posti all'attenzione del collegio. Ci sono responsabilità che vanno assolutamente coltivate e noi lo stiamo facendo e che ci sono cose da migliorare e che dobbiamo migliorare. Poi è chiaro che se non si verificherà tutto quello che noi abbiamo previsto siamo noi per primi a dire che ci sarà uno squilibrio, ma ad oggi non è possibile dire questo.